E' già futuro per la Tripalda Volley, quella appena conclusa è stata una stagione fatta di alti e bassi che ha infatti portato al cambio in corsa sulla panchina, da Angelo Colarusso a Michele Romano e proprio quest'ultimo, subentrato a stagione inoltrata, ha dato un apporto decisivo per la salvezza e la permanenza in B1 della Tripalda Volley. Per questo motivo il direttore sportivo del club, Clemente Pesa, ha fissato un incontro con il coach per la prossima settimana, un meeting nel quale il DS gli proporrà il rinnovo dell'accordo. Da capire quali saranno le intenzioni di mister Romano, se rimanere ad Atripalda o se cercare altri lidi. Una volta risolto il nodo allenatore, si penserà alle questioni meramente burocratiche. Bisognerà infatti adempiere all'iscrizione della squadra al campionato entro e non oltre il 20 luglio.